Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo capitolo di Medal of Honor, dovrebbe essere l'episodio 10. Nell'episodio precedente abbiamo finito la campagna in Normandia, dietro le linee nemiche, ed ora ci ritroviamo nella Britannia, il giorno della tigre. Direi di ricominciare subito da qui, eccoci qua, perfetto. Allora, questa missione non è semplice, perché è piena di cecchini dappertutto, e loro magicamente ti killano in ogni momento possibile, e tu neanche li vedi. Qui abbiamo tre compagni, che moriranno. Tu muori, tu anche. Ah, c'è uno là. Cazzo, 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 cazzo. Vaffanculo, proprio adesso che... Vabbè, l'ho preso. LOL. Che sniper ragazzi. Allora, andiamo un attimo su, qua forse ce n'è uno, sì. Ulala. Qui c'è ancora... Ah, non era morto, io solo ho tolto lo del metto. Guarda questo, dietro l'armadio. Dovevo aspettarmelo. Allora. Vediamo se ce n'è ancora qualcuno in giro. Lì non... Ah, sì, sì, sì. Ok, l'ho visto, l'ho visto. Questi sono bastardi. Tra gli alberi che coprono lo visuale. Questi qui che ti vedono... Da subito e ti seccano. Allora, poi dovrebbe essere uno qui, se non erro. Sì. Da, preso. Sti cazzo di aerei che fanno casino. Andiamo un attimo qui sopra. Vediamo se riesco a beccarne qualcun altro. Lì non c'è nessuno. Lì dovrebbe essercene uno dentro. Adesso dove... Ho scritto altre voci. Allora, direi di intanto... Rifornirci di energia. Scendiamo e facciamo il giro da dietro così. Però intanto, intanto... Dovrebbe essercene uno qui... Là. E l'altro è sul campanile. Allora. Pistola. Perché se mi sbucca qui... So che ce n'era uno qua una volta. Boh, non c'è più. Va bene. Occhio. Che è lì. Guarda, si vede? Lo vedete? Io vedo l'ombra. Fottuto. Perfetto. Incredibilmente non è morto nessuno dei miei tre compagni. Wow. Qui ce n'è uno? No. Però lì sì. Allora, aspetta un attimo. Che vado piano piano. No, 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 no. No, 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 no. Oh, sì, sì, sì. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ragazzi. Fatemi uscire, grazie. Non andare là che muori. Stai fermo, coglione. Mattonna, se ti fai ammazzare, ti spacco. Non importa, meglio me che i miei compagni. No, non morire. Cazzo, vado io, 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 vado io. Col Tommy, Tommy, Tommy. Ok, non c'è nessuno. No! No! Fanculo! Chi è stato? Dove sei, merda? Dove cazzo? Guarda che stronzo figlio di... Madonna santissima, Gesù Cristo. Mi ha fottuto un compagno, sto bastardo del cazzo. Dai, torna fuori. O sei morto? No, sei lì. To... Madonna, me l'hanno ammazzato. Com'è che si chiamava? Posso saperlo o no? Vaffanculo. Quattro ne sono rimasti ancora. Dai, 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 dai. Ah no, è morto anche lui! Ma no, ma sei una merda! Scusa? Che cazzo? Eh no, 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 no. Non ci sto, assolutamente. Ma dai, me li hanno ammazzati tutti! Non è possibile, uno qua, uno là, quello lì. E gli altri due dove sono? Che nervoso. Qua, vabbè, questi sono morti già dall'inizio, quindi... Scusa, ma qua ce n'è uno che deve sparare. Ah, no, un attimo. Reso conto. Reso conto dei caduti. Uno. Due, sto mongolo. Eppure io ho sentito sparare. Ecco, vedi? Ah, sei lì! Sì, ma se non ti fai colpire... Guardalo! Ma muori! Cazzo, mi ha ucciso due compagni, no, un capitano, un altro qui... E gli altri dove sono finiti? Quello lì è morto, qua sopra forse si sono nascosti. Non c'è più. Ah, uno è lì. Allora, erano in cinque. Meno... Ma se ci sono tre cadavri, uno, due, tre... Uno è qua, e l'altro dove cazzo è andato? Sparito. Ehi! Giacomo! O forse me l'hanno fottuto lo stesso. Ah, no, ecco lui qui! Minchia, ti sei mi ammettizzato bene. Quindi due li ho salvati. Questo, come un coglione, si è fatto ammazzare. E lui anche. Maledizione. Vabbè, dai, finiamo la missione. Cazzo! Porca! No, 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 avvicinatemi, no, che morite, morite, morite! Gesù santissimo! Allora, un attimo, adesso vengono questi... E qui c'ho i miei compagni. No, non dirvi che è rimasto là dentro! Vabbè. Va bene, ragazzi. Più o meno ce l'ho quasi riuscito a salvarne, insomma, abbastanza. Riprendiamo da qui. Ah! Ah, sei tu? Sei quello che ho salvato? Ma quindi se io avessi salato tutti i cinque, le avevo tutti i cinque qui? Minchia. Allora, sta arrivando un cara armato. Che devo... Buttare giù. Sì, ma se qualcuno... Vabbè. Siete delle merda. Ancora io. Oh! Cosa c'è il giubbetto antipigliettile, questo? Allora, un attimo. Via. Uno. Dai, dai, battilo, 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 battilo. Due. Abbattilo, battilo, 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 battilo. Tre. Oh, perfetto. Un attimo, ragazzi, un attimo, solo un attimo. Aspettiamo che buttino le bombe. Allora. Eh, madonna, quanti ce n'è? Oh, 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 basta, basta. Allora. Abbiamo lui. Questo che ho salvato da prima. Quell'altro l'ho rimasto indietro. Vabbè. Peggio per lui. Questo era morto già dall'inizio. Uno, due, tre, quattro. Minchia. Quindi, cazzo, magari avessi provato a salvarli tutti. Magari non ci devo provare, comunque. Ok. Anche questa è una missione abbastanza incasinata, perché è piena di cecchini dappertutto. Quindi, sicuramente... Allora, in teoria devo salvarne almeno due della squadra dei carristi per poter... Un attimo, eh. No, scusa. Scusa. Cazzo. Vaffanculo. Guarda che crepi se stai la pirla. Grazie. No, aspetta un attimo, eh. Sì, ma se mi lasci sparare... Eh, vabbè. Allora, dicevo che devo salvare... Allora, questa è la mia squadra dei carristi. Dove cazzo era? Uno, due e tre. Questi devono sopravvivere per poter guidare il cavarmato. Mi sembra che almeno due devono rimanere vivi. E questo è opzionale, insomma. Però mi sarebbe piaciuto salvarne il più possibili. Vabbè. Andiamo avanti. Sì, l'ho visto. È morto? Spero. Eh, ma insomma... Eh, ti pareva che non moriva? Vaffanculo. Si mette una granata su per il culo. Ma ecco, muori. Ha droppato anche l'energia, mi sembra. Allora. Vediamo di riuscire a giocare, insomma, abbastanza bene, perché sto facendo abbastanza cacare. Tu crepi. Lì, se c'era qualcuno morto. Stiamo sopra. Ah, lui mi segue dappertutto. Ok. Qui non c'è nessuno. Oh. Energy. Energy drinks. Allora, diamo un'occhiata rapida. Eh, porca... Eh, madonna! Bene, perfetto, dai. Già, ho perso un compagno. Benissimo. Vabbè. Ho capito che qua salvarli è praticamente impossibile. Allora. Allora, se non erro... È perché questa mappa qua non me la ricordo, cazzo. L'ho giocata tantissimo tempo fa. È quello che mi frega. Conoscere posizioni dei nemici. Sarebbe non fondamentale di più. Lì ce n'è uno, per caso, no. Non vedo niente. Là mi sembra su... Sì, vabbè. Appaiono dal nulla. Ma muori. No, non mi ammazzare. Cioè, sto giocando a facile. È assurda sta cosa. Mi fa ricominciare da qui! Ragazzi, mi scuso, ma... Purtroppo. Succede che muoio anch'io. Cosa vuoi che vi dica? Eh, vabbè. Riprendiamo, sperando di... Non commettere certi errori. Allora. Qui adesso dovrò... Cioè, ma non riesco a muovermi! Porca puttana! Vabbè, è morto ancora. Sì, ciao. Amen. Dio Santissimo! Non è possibile! Ma sto giocando difficile, facile? Che cazzo difficoltà ho messo? Posso vedere? Caricamento, sì. Boh, non lo so. Non lo so. Però non è normale che sto morendo come un pirla così. Cioè, dai, ragazzi. No, anche perché sto perdendo la pazienza. Ecco, mi faccio anche colpire dalle bombe. Allora, va bene. Andrò un passo alla volta. E basta. Vai, vieni fuori. Adesso butto giù la casa. Naturalmente non scende nessuno. Questa qui mi sta ostruendo la visuale. Cioè, mi spiegate perché adesso non c'è un cane. Allora, proviamo a fare una roba tattica. Oh, vaffanculo. Io vado. Chi mi ama mi segue. Fuori uno. Non c'è nessuno. Vabbè. Bene, abbiamo già ucciso un carrista. Abbiamo già perso un carrista. Qua nessuno che spara i nemici. Ma, vaffanculo. Ragazzi, io mi sto... Mi sto stufando di questa missione, sinceramente. Perché non... Cioè, non è no... Non mi sembra che sto giocando male. Però, ma dai. Oh, che due coglioni. No, 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 no. Ragazzi, la ricomincio un'ultima volta. Poi, dopo che penso di bloccare il video, perché... Mi stufo io, ma vi stufate anche voi. Quindi, allora. Un attimo. Ricarichiamo da qui. Se ce la faccio bene, se no, farò un altro video di gameplay a parte. Purtroppo ci sta anche io che faccio dei fail. Questa missione non la ricordavo assolutamente così... Cioè, così difficile, dai. Allora, uno è lì e adesso non c'è. Appaiono quando vogliono loro e quindi... Ecco, questi prima non c'erano. Allora, un attimo. Vabbè, tu muori. Vediamo se lì è apparso qualcuno adesso o no. Lì no. Vediamo dov'è quello che di solito sta lì. Vedo un piedino. Ok, ucciso. Vediamo se adesso appare questo qua o no. Lì non c'è più nessuno. Lì nella finestra non vedo nessuno. E là non vedo nessuno. Ok, provo ad avanzare. No, no, no. Allora, un attimo. Calma. Calma. Cazzo sei? Guardalo! No, 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 no! No, no, via, via! Ecco che... Madonna, pensavo che morissero. Oh, ancora vivo sta merda! Ma vaffanculo! Allora, bene, perfetto. In teoria abbiamo ripulito questa zona. Vabbè, questo sta per morire. Lì ce n'è uno, di solito. Lì ce n'è uno. Adesso non appaio, non lo so perché. Io provo ad andare magari un paio davanti. Così. No. No, 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 no. No, no, no. Allora. Energia. Grazie. Tu seguimi. Pure. Ok. Adesso appare da là che... Infatti prima aveva ucciso il compagno. Vediamo. Dai, vieni fuori, coglione. Forse devo girarmi. Dai, scendi, prima che ti ammazza. Bene, allora. Fin qui ci siamo arrivati. Proviamo a vedere da qua. No. Cazzo, non posso chiuderlo da dentro, così almeno sopravvive. Allora. Io so che uno è qui. Perché adesso non appare più? Perché vogliono farmi incazzare? Lo so. Ecco, io già... Ah, ok. Dai, vieni fuori. Guarda questo come spara. No, 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 no. No, 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 no. Allora, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Allora, ammazzato. L'altro, non lo so dov'è, dove cazzo è? È parso da lì adesso, vediamo. Ah, eccolo l'altro, ho visto. Oh, meno male. Dio buono, non morire, non morire, non morire. Grande, li ammazza tutti questo. Dove cazzo è? Allora, un attimo, calma. Lì non c'è nessuno. Caro mio, amico mio, non ce li sei più. Ho perso un carista? No, vero? No, perché no? Allora, tu muori. Eccoti qua. Muori. Ma dai, ti ho colpito! C'è un altro? No. Allora, aspetta che mi sembra che... Eccolo lì, ti ho visto. Spero di averti colpito. Oh, ma quanti cazzo sono? Ancora vivo. Doveva essere morto quello sopra il soffitto lì. Allora, occhio che forse adesso appare da qui. No, per adesso no. Quindi andiamo un altro pelo avanti. Piano piano. Io so che ce n'è qualcuno nascosto là. Comunque, allora. Allora, in teoria qui adesso è pulito. Vado dentro col Tommy. Ti pareva che deve ricaricare adesso. Ok, fuori uno. Spero di non perdere nessuno, intanto che vado a ripulire qui. Perché se no mi incazzo veramente, eh. Granata. Granata. Ok, allora. Energia. Controlliamo un attimo la zona qui. È pulito? È libero? Sì. Ora, di qua. Allora, aspetta. So che ce n'è uno di là. Però prima... Prima... Facciamo una cosa del genere. No, non c'è niente. Quello che era lì l'ho ucciso. Quindi bene, allora. Velocemente. Ecco, ecco. Los, los, los. Che cazzo ho sparato adesso? Ah, ecco ti là. Madonna, ti ho colpito? Penso di sì. No. Oddio, badonna. Sarà morto adesso? Comunque, per sicurezza... E vabbè, che fail. Allora. Oh, ma... Ma non la lancia dalla finestra! Ma vaffanculo, dai. Vabbè, ho capito. Oh, questa missione è tutta un fail. Ragazzi, che schifo. Allora... Allora... Vediamo ad andare avanti. Gente che lancia granate. Io mi sto rompendo le palle, sinceramente, di sta roba. Vediamo. Nei coglioni. Eh sì, vabbè, adesso è scappato. Vaffanculo, dai. Ma muori. Non ho più pazienza. Ma muori anche te. Muori anche te. Se ce n'è uno là, muori anche lui. Allora... Dove sei? Dove sei? Eccoti là. Prima non c'eri, adesso ci sei. Ma vaffan gala. Vato fuori? No. Allora, aspetta un attimo. Dove cazzo? Non ti vedo. Vaffan... Culo. Ok, un attimo che scendo. Prima che mi fottano i miei compagni. Dove cazzo è? Dove cazzo è? Adesso vengo a trovarti però, eh. Merdina. Oh là. Lo sapevo, lo sapevo. Allora, ragazzi. In quanti siete? Siete tutti? Uno. Uno, due. Non vedo l'altro. Vabbè, spero che ci sia, insomma. Andiamo avanti. Allora. Un attimo, vediamo qui. Tu col cazzo che lanci la granata. E adesso muori. Ricarica, 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 ricarica. Piccola raffica sull'armadio. Giusto per essere sicuri. C'è qualcuno qui? Nell'angolino? No. Allora, energia non mi serve per ora. Direi piuttosto di dare un'occhiata. Allora, lì non c'è. Qui sopra mi sembra nell'angolo, se non erro. E qui. Allora, aspetta. Prima qui. No, non c'è. Allora, qui sopra. Sì. No, tu non la lanci la granata. Ma se prima non c'era. Vabbè. Uno, due, tre. Ok, ci sono tutti. Probabilmente è morto l'altro mio compagno. Eh, sì. So dove sei. Un attimo. Certo che ha una precisione assurda. Grazie, amico. Ehm, lì mi sembra. Lì sotto dovrebbe essercene uno? O no? No, non me lo ricordo. Comunque ho fottuto quello ed è importante. Questo lo faccio fuori così. Poi, 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 poi. Uno dovrebbe essere... Vaffanculo. Tommy, Tommy. No, ma perché l'hai ricaricare così? Aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi! Pa, 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 granate a destra e a sinistra. Ta, 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 ta. Ok. Ok, in qualche modo. Ok. Ma non mi sento sicuro e quindi... Devo continuare la mia ricerca. Eccolo qua. Minch'era, ragazzi, se questa missione è lunga, eh. Oh, madonna. Dove cazzo sei? Ma guarda! Ma perché loro riescono a fare i doppi colpi con noi a ricarica? Ma va, franculo, muori. Ce n'è qualcun altro? Dai, che siamo a un buon punto, ragazzi. Questo video durerà abbastanza. Energia non ce n'è più? No. Allora. Dai, andiamo avanti così. Eh, in campo aperto non ci vado. Ma vado per di qua. Un po' di energia, però... Cioè, dove cazzo sei? Ma guarda! Ma dove viene? Ma dai! Non c'era prima! Vabbè. Oh, grazie, amico. Uno qua e uno qua. Perfetto. Voi statemi sempre dietro, che ci penso io, eh. Allora. Calma e sangue freddo. Qua ce n'è uno. Ok. È un casino. Ok. Allora, un attimo. Calma. Non fatevi ammazzare qua, perché mi incazzo, eh. Siamo vicini alla fine. Ma mori. Granata! Via, via! Non andare di là! Non andare di là! Non andare di là! Guarda questo che esce dall'armadio. Mori, 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 mori! Attenzione, no, ce n'è uno qua. No, 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 colpisci me piuttosto. Ma non loro, non loro, non loro. Colpisci me, 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 me. Ok, perfetto. Allora, qui abbiamo fatto adesso. Attenzione. Granata ancora. Un altro che arriva qui. Attenzione. Energia, energia, energia. Mi serve un'energia. Attenzione. Un altro MP40 qui. Ma crepa, maledetto, bastardo. Attenzione. C'è uno lì. Non riesco a beccarlo, perché è dietro la gringhiera. Madonna. Dove cazzo sei? Eccoli qua. Poi c'è la granata, ma non ce la farai mai. No, 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 no. Perfetto. Giù, 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 giù. Controliamo se c'è qualcuno. Non c'è più nessuno. Questo non si sa dove cazzo è arrivato adesso. Ha lanciato un granato. Non uccidere i miei compagni. Non morire. Perfetto. E vediamo qui se c'è qualcuno. Qua non c'è nessuno. Perfetto. Andiamo giù. Attenzione. Non morite. Non andare dentro quando non... Se io non ci sono che a coprire. Porca ma... Madonna, santissimo. Perché non essere così a rischiarsi? Voi adesso state qui. State lì. Fermi. Che quello dovrebbe essere stato l'ultimo. Ah, madonna. Fa un culo. I cecchini possono rimanere lì. Cazzo, tu sei quasi crepato. Dai, dai, che abbiamo finito la missione. Madonna, sei stato un disastro. Un disastro. Tecnico, tattico, un falimento. Qua, mezzo fail. Dai, ce l'abbiamo fatta. Ho salvato i tre carristi. E perfetto, insomma. Abbiamo finito anche questa missione. Madonna, ho studiato 20.000 camice. Bene, ragazzi. Direi di finire qui perché io sono sfinito praticamente. E riprenderemo con la missione del carro armato in cui faremo una strage. Vi ringrazio per avermi seguito. Mettete mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao.